che partita emozionante c'è Empoli Roma che potrebbe regalarci la qualificazione alla Cessons League forse quella si registro sta live reaction solo perché da quando sto su YouTube e faccio le live reaction della Roma non ne ho mai saltata manco una ecco forse questa amba pubblico dovesse finire 0 a 0 perché non sa vedrebbe nessuno ma rivedrei manco io mentre la edito vediamo che chiude perlomeno con una vittoria non me ne vogliano i tifosi dell'Empoli in quel caso retrocederebbero in Serie B ma noi ragazzi non è che guardiamo chi ci abbiamo di fronte non so se mi sto a spiegare eh Super Sigla quella più bella ammaliante sensuale romanista youtubistica gente c'è madonna te nonne zi e cugine non ce so cose più divine di YouTube Italia se beccamo tra poco voi devo fare un apocalittico pronostico marcatori e risultato esatto perché vedo le probabili formazioni vedo la formazione dell'Empoli vedo un giocatore che negli ultimi anni Bover ha fatto due partite in croce già me so fatto un film che si avvererà sicuramente dai e vai sigla fatta la cacca il culo si sciacqua bidibibodibide dai lavati il culo anche tu come me bidibibodibide ve lo dico immediatamente una marea di mi piace ma soprattutto raggiungiamo l'obiettivo iscritti che vi ho messo all'inizio di questo contenuto se volete il mega contenuto su tutte le live reaction accorpate in un unico video di questa stagione non un anno di gioie smadonne che è un anno solare dei partiti della Roma ma una stagione di gioie smadonne tutta questa stagione 2023-2024 giocata dalla Roma dipende tutto da voi obiettivo iscritti due canali di calcio non dimenticatelo eppure un canale extra calcio dove sto apportando tanti nuovi contenuti lascio tutto in descrizione come sempre i canali compariranno qui durante il video vice vince 2 a 1 Lempoli con doppietta di destro l'hanno fatta apposta ammetterlo ragazzi questo gioca praticamente mai ti butta non so chi c'ha ed è indisponibile magari proprio per necessità e urgenza non mi sono andato a informare ma secondo me ragazzi è fatta apposta perché sanno che noi resuscitiamo gli ex in una maniera di quelle clamorose ce segna doppietta noi probabilmente riusciremo ad accorciare le distanze sentite che ve dico cioè passiamo in doppio svantaggio e ce segna Abram a noi il gol della bandiera tra virgolette che non varrebbe assolutamente nulla so già che andrà a finire così se salverà Lempoli non aggiungo altro devo andare a fare una cacatina rapida tanto poi mi ricaccherò sotto una quindicina pur senza stiamo a giocare niente a me sta la Roma perde poi poi mi parte la sgommata quindi in via preventiva e sui se beccamo tra poco sono partiti dai che si comincia che c'è da attendere Lempoli cioè se deve salvare vince per forza può avere pure atteggiamento attendista secondo te poi tutto al più che noi non si stiamo a giocare niente figurate se non vogliono vincere questa potrebbe essere una buona opportunità una palla a mezzo la patacca te zieta eeeh di palla ma vaffanculo Paolo con la puntina ma come cazzo la piada cioè manco io sotto l'effetto dei sei birra e i pratoni a Pasquetta la prendo così fa già tre quattro volte che Svilar deve se deve andare avventurà l'uscita eh facciamoci le le partite qua così abbiamo pure la panoramica dei risultati in diretta e che razza te lancio lungo lo fa ragazzi guarda questo eh guarda questo eh porco p*** 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 e' un grande palla dell'angolino il quarto o' il campionato del ragazzo presciuto nella Roma completamente da solo è fondamentale tu madre fondamentale i famosi arvanoio sapevo io guarda che cazzo dei palloni che abbiamo perso guarda che stiamo a fa guarda altro pallone perso io non ce posso crede stiamo facendo lo schifo lo schifo ha tirato Arta c'è l'audio in ritardo c'è fuori de pochissimo fuori de pochissimo fuori de un pelo de f***a aaaah 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 fuori gioco seeeh si è capito un cazzo non si è capito pensavo fischiasse fuori gioco taglie palla a mezzo colpo di testa guarda che aveva preso su Abram miracolo tiro è tutto regolare ora ce l'annullano possible offside ce sta avevo visto con la coda dell'occhio ragazzi ma la sentivo ma tanto pure senza coda dell'occhio ogni volta che segniamo ce sta sempre in check da annullarlo sempre ha fischiato non ce posso credere ragazzi guardate quante è fuori gioco ragazzi mamma mia mamma mia ci ha messo una pezza a svilare eeeh si eeeh e poi smiley che brigli che brigli che brigli tu madre addirittura tentato il tiro da centro campo con svilare fuori vai con sto cross dai sei capace a fa un cross ma va fa un culo va questo è fuori gioco mamma mia ah ok gol mo svegli eh mo svegli svegli perché io sta partita la voglio vincere a prescindere la voglio vincere partito malè a momenti ce fa malè ah ah momenti ce lo fanno da soli ma lei ce stavo a fare malè oh ma va a fare un culo è morto è morto oh ma come fai a farlo di raddallà lo segnano mamma mia ha parato a svilare ah uah guarda che no ci segna ci segna mamma mia ragazzi mamma mia ragazzi mamma mia ragazzi ha preso il palo ha sbagliato a crossà diciamoci la verità lo fa mamma mia ci ha messo un'altra volta una pezza a svilare lascia stare che oggi proprio stai a pensare alla patacca non ti pare no cacace cacace vai l'ha presa era pure bella angolata traversa ma che fa ma chiudi a chiude per loro o a chiude di che ha fatto il disimpegno doveva tirare un'porta e segnare no regà no regà regà io stavo a regalare la partita mamma mia a svilare ha fatto un altro miracolo guarda che cosa ha fatto quest'altro che cosa ha fatto quest'altro la palla a mezzo e vatta un affanculo si è fuori gioco ma è fuori gioco è fuori gioco oh è tutto solo no rigore no ha toccato oh non ce posso crede porca e la verità è partita ma vaffanculo porco oh ah ah Ciao a tutti!